35 cavalli e 7 boi rinchiusi in recinti che i carabinieri definiscono fatiscenti. Blitz dei militari dell'arma anche con l'ausilio di un elicottero a Santa Croce di Magliano. Nulla era in regola, questo dicono i carabinieri. Sequestrati tutti gli animali è un'area di 700 metri quadrati per un valore complessivo di 150.000 euro. Abusivismo edilizio e irregolarità in tema di allevamento di animali. C'è questo alla base dell'intervento dei carabinieri in una vasta area nell'agro di Santa Croce e confini con la provincia di Foggia. I militari della compagnia di Larino, guidati dal capitano Cristian Petruzzella, sono recati a casa di un imprenditore del posto. Hanno effettuato accurate verifiche sugli immobili di proprietà dell'uomo. Due i locali usati come stalle e mai denunciati al competente ufficio tecnico del comune di Santa Croce. Strutture abusive con sé parè, foraggio e mangiatoie, nulla norma dalla costruzione all'area di rimessaggio o agli spazi per il lavaggio degli animali. Così come ritenuti abusivi gli uffici, i ripari e le staccionate di sicurezza, nonché i recinti all'interno dei quali sono stati trovati i buoi e i cavalli. La panoramica visiva offerta dal supporto aereo del quinto nucleo elicotteri di Pescara ha permesso di individuare la seconda stalla del tutto abusiva. Lì hanno trovato i 35 cavalli e i 7 buoi in asse. Le unità cinofile di Chieti hanno effettuato una serie di verifiche ed accertamenti riscontrando la mancanza del previsto tracciamento di origine degli animali rinvenuti. Nessun tracciamento all'anagrafe nazionale per i bovini. Mancava il cosiddetto bottone giallo sull'orecchio dell'animale, assenza di microchip anche sui cavalli mai denunciati presso la banca dati equina. Sul posto, insieme ai carabinieri e anche i veterinari dell'ASR, per gli investigatori gli animali erano in serio pericolo all'interno di edifici abusivi e privi di qualsiasi norma di sicurezza. L'imprenditore è stato denunciato alla procura della Repubblica di Larino e dovrà chiarire anche l'esatta provenienza di cavalli e buoi rinvenuti dai militari nelle stalle abusive. Grazie.